bello è il pane del Stefano bravo cazzo eh no, l'ho fatta bene vedi cazzo, se poi metti i piedi, va 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 te strozzi e questi sono le ah, ok qui è fattibile stai in argola al massimo che non lo fai in due colpi bam bam che li hai distorti te strozzi eh ma ci può fare hai fatto i pezzi difficili perfetti vieni giù dall'aria e poi hai messo due piedi lì non è scivola devi stare attenta perché non pensavo che scivola il casino e poi fai la curva eh lo so ma sembra eh ma quando sei su li dai vieni giù proprio come dice Rocco poi in discesa mi ricordo che l'avevamo già provata Ah, valla no, brazzi poi bella 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 bella